Segnali incoraggianti dal settore dei servizi britannico, il cuore pulsante dell'economia d'oltremanica, secondo un sondaggio della Confindustria Locale, gli utili e la forza lavoro continuano a mostrare crescite sostenute. Giudicato molto positivo il dato sulla spesa per la formazione del personale, ai massimi da ben 15 anni, a fronte di una penuria di competenze che potrebbe altrimenti pesare sugli investimenti futuri. Ed è proprio sulle prospettive che pesa il pessimismo delle aziende, soltanto in tre dei nove sottocomparti in cui è diviso il settore si prevede un aumento della crescita nel prossimo trimestre.